Un mostro autistico Lo è No, il mostro autistico Sarebbe Caotic Gormagala Ovviamente mi porta Da Ratalos Già ci siamo Ma io avevo detto partiamo da 17 Se ho partito da 8 per qualche motivo Mandiamolo contro la diga Scusa, no? Aspetta che mi trovo Ho preso roccioli io E di partire dall'accampamento serve Perché c'è il rocciolo appena esci Eh lo so Ok cerchiamo di farlo tenere qua però Ok E qui che si incatta E qui che sei incattato No? Eccolo Beh Ma sei aggrappato proprio Fai Oh, arriva Via Non sei noto perché sto coglione è andato a un volo Come no? No Ora Ok Ok via di qui In arrivo Ciao Alan Che la sua bomba mi ha salvato Ok ragazzi Via Bombarda avventur vitale Fuoco Chi è che mi ha picchiavo in aria Non io Ah io invece Viene ancora adesso Ah no Ok Ok occhio C'è già se ne va Sì sì no Qui sotto non ci resta ancora Ok occhio Raggiang pari No no Fanno comodo Sai quanti belli scontri Li facciamo fare insieme Qui C'è una Qui c'è una traccia Di raggiang Ecco No Sopra Ok Posso perciò di raggiang Non è lontano eh Aspetta un attimo E lo Yanga Ruga Aspetta Lo Yanga Ruga è qui Il raggiang Penso sia in piatta In piatta di gargiang E' un piatta di gargiang Il piatta di raggiang Ecco come si E' madonna E' grandino eh Il Garuga è grande E' grande E' grandissimo Oh Vediamo bene Vediamo Vediamo Ah a te ti manda E' sì E' proprio quello grande Quello vicino però E' grandino Quello vicino E' stato uno dei primi Ho fatto E' una taglia solo Ho trovato sia tigre E' piccolo Che Yanga Ruga E' sbattibile ancora Il bastardo Magari se ne ha tirare Bocce No No Se ne va Se ne va Ho fatto la presa Ma ho fatto la presa Ma ho fatto la presa Ah a me E' un po' in alto Inchissimo Devi abbassarti ora ora lo dico giugno da poco quanta il calcione del glavo dorme ok ferma no la cala di merda state fermi un attimo l'hai vista anche te ne hanno tirato quella bomba di merda allora si potrebbero mettere le bombe qui all'albero così poi lo lanciamo qui sto guai per me allora è finito il tecnico è incazzato lo suo lo mandi ok ragazzi lo sto facendo sulla coda ti stavi andando tu eh per la cronaca vuol dire il calcione io devo andare sulla coda infatti devo scapparci ci siamo troppati che ci porti a questo guai dipendendo dalle armi che vedi in giro si però se tutti hanno armi diverse non lo usi comunque ti fai più danni con altra roba dici a me a me pare proprio dico è la stiglia gelata mi sa che hai la possibilità d'attaccargli il c4 e di fargli un botto di danni a tutti gli spari che fai semplicemente premendo cerchio senza bisogno del guai eh il problema è che ti dirò io non lo uso molto male eh lo so ma guarda testi kajalaka di merda uno mi ha addormentato e uno mi ha tirato la bomba oh ancora ma che cazzo volete ma hanno fatto il tag team mamma mia mi stanno pisciando fammi andare via vai siamo tornati ai tempi della curva ma guardate che lavori oh ma sempre loro che rompono il cazzo poi capito io soffro molto di più gajalaka e grimalki in vari oddio sappiamo il ragione che sta andando in rotta di collisione contro il garuga ottimo buono buono lascia che collidano c'è meglio il garuga è fermo e è il ragione che si muove oh è sbattibile oh sono tutti sbattibili su questa mappa in questo momento vado no non vado puoi scendere lo cazzo è errato lo so ah ok chi è che l'ha buttato giù il gajalaka il gajalaka col bombardamento orbitale bombardamento gajalaka se buono buono ok bastardo se ti rialzi se ti rialzassi li devi rialzare bastardo narratalo se no gli dovrebbe manca troppo ormai purtroppo non eh l'ho parata al pelo che necessario stris messa l mondo lo vi ero come impossibile quindi uno c'è che l'ha droppato di su oh, dopo questa droppi sicuro a me che ragione ci viene questa ragione è un po' ovunque bene, proprio di un po' questa cellulata là ho ancora un po' no, no, è colpa a morire stava provando andava via a zoppicando no tutti e due tutti e due bisognava avere un barcello bomba io avevo quella cazzo di merda del muschio idrico una vera, lo stanto ha finito quindi guarda non mi sembra ne lo sto andando ad aspettare fuori dal suo campo così lo catturo come arriva dici, non mi sembra che stia andando alla sua tana si, si, zoppicava era per quello che avevo messo le trappole avrò a pensare ci pensate a voi ok il Rajang è inchiazzato inchiazzato non ha neanche fatto non ha neanche fatto il giro lungo il rataro si è proprio venuto diretto qui perché non ne aveva più chi dei due facciamo guarda che bastardo mi ha fatto la finta a questo punto a questo punto io vorrei fare direttamente Rajang ma che tanto ti fai Yangaruga Rajang viene allora a terra stupido ma tu carino ragione che si sta guardando il panorama fammelo vedere è messo a sedere? si, si sta guardando il panorama ecco te considera che quando è un ride in vento mi ha trovato a sedere in quel modo fuori dall'accampamento che mi aspettava si, 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 si non siete tipo ehi mi stavo spostando oh ma stupido ma stupido fai una foto ti prego nooo ma voi a terra guardate che è grossino eh lo sai mi sto riuscendo a catturare storavalo perché vola lo sto vedendo infatti lo sto vedendo infatti andiamo dai su oh vedi che qua che sei intesa dai madonna che liscio che mi ha fatto oh 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 finalmente da che parte siete siamo all'accampamento 1 proprio davanti buono buono allora dio era bellissimo io dai anche che guardava lì che guardava l'unizzonte sopra sopra buono togli gli sta cosa allora però c'è anche bisogna venire un attimino più convinti eh direi incredibile incredibile madonna martello incredibile quanto è veloce a muoversi anche da cavalcato oh si si scende ok ok non stagli sul culo la coda gli si deve spaccare oh cazzo verda riccardo milo si arriva oh cazzo così oh cazzo oh cazzo prima che avrei di dire madonna 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 mamma mia ho fatto il pelo abbiamo fatto il pelo buono non cazzo guarda qua NO! Oh, no! Tanti bastardo sono invincibile... Non sono invincibile quando sto in gala! No! Penso se ti lanciasse le placche tettoniche come faceva prima! No ho fatto la presa! Sei bumibi, plinque, plinke! Ma no! Riccardo Vilas, vado! Gli ho lanciato un baccello a bomba Gli ho lanciato un baccello a bomba per disperazione Oh, si è calmato Almeno Raggiardo, Milo Raggiardo Raggiardo Oh, Dio Guarda, ha masturbato questo là Madonna Ascolta, ti devi calmarlo No, ma quando mai Stavo così No, non l'ha messa Oh, tra... oh È sbattibilissimo Sbattibilissimo Slam L'ho messo sulla testa Madonna a voluto un po pozzo perché siamo in mezzo a nulla cosa Super Saiyan Lasciami stare, non rompermi i coglioni Madonna gli ho dato una lancia per il figlio Merda Arriva Michia quello c'è entrato Da un altro gol Vai Il problema è che lui nelle trappole non ci stanno No Addio Io sono morto Si Se avete faccia di bomba veleva ammelo di dosso Ce ne avrei io però Attenzione Questa arrotolata Mamma mia Avevo lanciato il baciano Non so riuscire a farla arrotolata perché Il pugno è arrivato lo stesso Insomma Non mi ha preso È il punto di punto è questa è che purtroppo nel momento in cui ha detto bacello bomba stavo ricaricando tonto tonto è la musica dello squalo monster hunter niente senza se senta ma tonto tonto che sta ancora incazzata quindi io faccio il giro da qui dietro così non mi vero non mi nota 8 a non stagherarlo vicino a un muro è calmo è calmo un miracolo ma ok non stato di sottilo ho preso cliente non mi ha detto spianciato se mi riesce se sta fermo nooo cioè provato volando ecco è incattatissimo no 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 oh i haffno! i haffno! aiutami! help me! vengono! ok! non c'è l'esercito! ma non c'è l'esercito! ma non c'è l'esercito! non c'è l'apex! anche un po' i coglioni però eh! uuuuh ciccio! l'Ulian Garuga intanto sta a partire! l'Ulian Garuga dice cazzo! questi mi levano dai coglioni lo scimmione! io gli lascio la botana! dopo si che gli facciate la corona! no! 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 ho fatto il cancello! sono lanciato il cancello qua! c'è un mito! eh però gli ho finiti! madonna come... ragazzi! c'è tanta martellate c'è il culo ma! colpi da sempre agli autodotti! si si! madonna! ma dai! scarica! su ti hai finito! no! oh no! neanche su questo velo temprato che è sempre incazzato! madonna! puttana! qualcuno lo fermi! scolpite stagliate! fatelo il cancello! occhicete la gratta di cosa! oh, oh! ah, ah, ah! pah, ah! spaccatemi i coglioni! come non li ha preso, non lo so! come non li ha preso? ma dio merda! hai rotto i coglioni, su, una traspolina coperta, dai, su, gente e ancora? non ne ho e io ce la trappo la scossa sempre una e una, portale basta non è abbastato ma ti rimasti uno mangio di te eh, mangio salvaguardia si, direi ma, da quanti minuti è anche così, oh chiusa, ma, basta avresti anche rotto i coglioni oh, finalmente se, cosa, quanti cazzo mi metti erano stappate non ci arriva, ci è arrivato ci è arrivato il nome sul culo bene stava, se ne sono formato si è rincazzato subito perché ha preso schiaffi e basta quindi, sta troppato già il secondo marcello buono cioè che questa è stata una fase molto dura però gli abbiamo fatto un vagone di danni, capito? ho fatto un vagone di danni per noi quanti minuti c'è stato c'è stato in quella fase troppo troppo quanti c'è non sei mai calmato eh, quello si cavalca, vai oh, sì, c'è si deve cavalcare adesso garuga garuga si sta volando verso ok verso la zona, la zona del poker, si per ora è tranquillo bella bella pierna questa erano due subito non sono neanche arrivato io io ho appunto la stamina eh, dai, oh non c'è la scuola io voglio un attimo rifusare qua madonna mi è andato a te ho visto essendo statico nel bengala ma come mi è preso? ma c'è, ma fa troppo oh oh, cazzo che strana hitbox quando ti attaccotti anche a volte mi stai sotto ma non ci troppo sono morto ma ci siamo quasi, eh oh, direi vedo la linea della vita è un po' una merda che è lunga, no no dicende ragazzi, dovete correre eh, c'ho il fordino ha molto venuto no, se ne sta andando è un coraggio più buonare no, ragazzi toglierte me lo stesso ci avete baciando bomba, vero? no ok, no ho un martello avevo il barcello io grazie io avevo un martello un martello bomba ok ok, si sta... ok, non andiamo a contatto grazie, grazie quindi io me ne vado io ne vado ok niente voi no ecco minchia, che sbattibile ok, si è scusa è accammato però non è anche ora sbattibile però è accammato ah, è sbattibile o è... o è possibile è sempre sbattibile appena è possibile ok, se la volete io ne vado Ok Lui è fatto Garuga è andato all'otto Si No Si sta muovendo Sta riandando da quell'altra parte Sta andando dal Pukai Oh no 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 Prendimi per il culo Vabbè ormai che sono in questo accampamento qui Riporto qui poi Si è un attimo E' impazzito pure Garuga Non ci sta a capire più un cazzo Vabbè lui non ci capisce nulla Ci capisce mai un cazzo E' psicopatico di suo Allora ciccio Anche se il mostro Ripeto il mostro con dei veri problemi mentali E' il Gormagala caotico Ma proprio tanti problemi Ha quel mostro Molti Ha una crisi di identità Sta venendo verso l'indicino Già Ho sbattuto contro un muro Già Ehi Già grass Uber Uber portami verso Il mostro Il nostro Bianca L'indicino Com'è che parla Uber? Lo so io Che c'è Che c'è Che c'è Come è che parla Uber sui persone Ma guarda questo Era solo tre secondi nella partita Già abbiamo già due persone con metà C'è C'è Chi era finita C'è la cosa che ho andato in campo Com'è già Cazzo sono entrato Ma io ho capito Cioè mi è venuto un faccia L'ho sbattuto contro il muro Gli ho tirato un treno di martellate Poi si è alzato Gli ha preso i cinque minuti Io l'ho detto Io l'ho sempre sostenuto Non è il mostro più difficile È semplicemente quello più aggressivo di tutti Ma Che cazzo di giro sta a fare? Sta andando sotto al trappolone Ma dove sta andando? Non aspetta Non ci credo Sta tornando qui ragazzi Sta tornando qui No Quello di campamento 17 No guarda No no Sta andando di sotto Sulla spiaggia No guarda Guarda Ora sta tornando su Sta tornando da me Sta tornando da me Guardate Sta tornando all'11 Eccolo È arrivato Ma non è normale Ma che anche Che mo Cioè Qui qui veramente si raggiungono Dei livelli di autismo Fuori del comune Non lo sa neanche lui Quello che sta facendo Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Ma che cazzo vuoi Ma che cazzo vuoi Ma non è normale non è normale per niente con le lacrime agli occhi il bello boxata sostunato se mi tocca ciao questo è un modo pure il lavoro sta facendo questo è poco esaurito questa questa è la sorella del deturpato se non dà solo una oro se non dà solo una oro lui va al giro guarda il becco io ho un testo medio cane che è mezzo basso però adesso non mi ricordo se ce l'ho forse ce l'ho già io la corona oro grande no era il deturpato eh la squadra è problemissima intanto eh non avrebbe funzionato lo stesso no dico mi avrebbe funzionato lo stesso dico anche se non si fosse cappottato perché ero già nell'animazione della silica vai questo è uno dei nostri più aggressivi che l'ha mai visto ma è in questo qui in particolare questo in particolare per questo altro che deturpato questo è proprio la mamma maiara chi l'ha registrato sta cosa qualche parte questo se lo merita la eh mia cos'altro questo se lo merita qualcosa della valoria catture c'è madonna che cos'hai niente eccolo qua guardalo guardalo niente si si è due e due guardi ti sto venendo ma guarda ce non è normale questo no 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 questo è poco non è niente temprato di solito un forte è quello che ha fatto quello che caga il cazzo, lui ma dico, ma non è neanche in tempo ma non è neanche in tempo non è un male in tutti gli aspetti no no dove va? chi lo sa? beh, chi lo sa? ma chi lo sa? no, sta andando in piazza, non è in sei prima ha fatto un giro dell'assurdo per tornare qua si si cioè, non è che dici no, prima si ferma e poi no no, è andato sopra hanno fatto un giro dalla spiaggia per tornare da me perchè? si no, perchè sei psicopatico? proprio che non è questo è il fratello veramente del caotic goremagall ma almeno, ma almeno ma almeno cazzo il caotic goremagall ha la scusa ha la scusa che ha gli è fattuto il cervello del trauma ha la mentale, il fisico almeno questo qual'è la tua scusa? non lo trovo è mi sto noto veramente cioè dai ma vuole scendere? cosa sta facendo? è un po' oh c'è oh ho visto che sei la fermata sei la fermata c'è 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 sopra beh non... c'è stiamo giù buono preparatevi ah si inca gli ho messo e ora un bel wyvern sulla torre cosa gli è andato? l'orecchio? eh penso di si per la seconda volta merda! o muoio ragazzi? scappa e cura no, l'unica cosa che può curarmi è il veglà non avrei avuto il tempo materiale di bere oppure questo un doppio busto così là aspetta devo togliere un po' la non ho... come sapere? vai? catturarle? no no, l'ho fermato un attimo però è che stava rompendo un po' troppo buongiorno non ci si è? anche se... secondo me lo dobbiamo ammascare c'era un po' pericoloso quindi dalla stanza vai vai marcello ma quello qua è un altro è sbattibile? non è più non è più no, no! cazzo parte rotta cos'è? la, 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 la... la resta pensate se era ancora più l'era bambiato ma lo trovavamo un modo che abbiamo trovato il modo con il lescene antico alla pista ma il veleno questo qui ce l'ha con me ce l'ha con me no ma l'ha velenato pure a me però con le pillole e burlissime ok 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 non vale più niente ok sta andando in 10 trappolone si io vado un attimo all'accampamento un attimo ne ho serio bisogno controlla se hai le pillole erboristiche perchè sono molto più veloci dell'antidoto da darsi o le polveri anche sicuro che si chiamano erboristiche sì pillole erboristiche rimedio erboristiche ah eccoli eccoli cosa gli ha andato ancora no gli ha caduto il posto ma perchè è buona è giù coglione madonna maduro vincita è dentro la cazzo doppi cazzo non va è catturabile no no dio mio maledetto bastardo no questa cosa questa qua questa bisogna salvarla questa bisogna salvarla allora c'è stato Rathalos che ha preso poche botte che sembrava di farlo di spencer e per esempio sembrava ma quante botte ha preso e Rajang eh 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 e Rajang la primaria un po' a cazzo perchè non c'era niente per sbattere la secondaria è incazzatissimo come una bestia è stata una battaglia normalissima Rajang tranne quella cosa che ha fatto l'incazzatura totale argento bastardo ma NAI è 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